Bene, siamo qui con le nostre ospite di Bain & Co. Abbiamo Claudia D'Arpizio, che è Global Head Fashion & Luxury, quindi Bain è ben trovata, e poi abbiamo Federica Levato, che invece è EMEA, leader sempre per Fashion & Luxury. Ovviamente parliamo di Fashion & Luxury. E Bain è ormai Anni, che segue il settore molto bene e produce report corposi sul tema. Da poco è uscito l'ultimo report e lo vogliamo un po' ripercorrere con le due autrici. Andando a sottolineare gli aspetti più particolari, vogliamo partire da uno, più nel dettaglio, che è quello che riguarda la convergenza che c'è in questo periodo tra appunto il settore moda e lusso e l'arte, perché appunto i stilisti si stanno sempre più occupando d'arte, investendo anche appunto in progetti che riguardano l'arte. Che cosa ci potete dire? Sì, dunque, da molto tempo in realtà brand del lusso e imprenditori del lusso hanno visto questa convergenza di interessi tra il loro core business e il business dell'arte, tanto che molti degli imprenditori più famosi del settore, come Prada, Pinot, Arnaud, hanno le loro collezioni d'arte moderna o patrocinano l'arte in vari modi. Quello che è più interessante però è vedere come nel core business, proprio per i brand, ci sia una convergenza tra arte e prodotto di lusso. Il prodotto di lusso perde sempre di più il valore funzionale ed assume sempre di più un valore simbolico, proprio come l'arte. E questo maggiore valore simbolico permette anche di alzare i prezzi e di chiedere un premium maggiore, perché questi oggetti sono sempre meno funzionali, ha una funzione d'uso, ma sempre più un oggetto del desiderio simbolico che porta con sé valori, esperienze e un concetto di estetica che è molto più ampio di quello puramente funzionale. Quindi questo anche con l'avvento dei direttori creativi, che sono degli artisti sempre di più, vogliamo, poliedrici, se vogliamo usare questo tema, è che usano poi la moda come solo uno dei possibili abilitatori per poi passare messaggi artistici al consumatore o alle persone o a un pubblico più ampio. Lo fanno anche attraverso collaborazioni con artisti, lo fanno attraverso la loro comunità creativa con cui collaborano e con cui scambiano idee. Quindi vediamo una convergenza ampia, tanto che questo settore sempre meno lo chiamiamo un settore del lusso e sempre di più lo chiamiamo settore culturale e creativo. Molto interessante, quindi vediamo poi quali saranno gli ulteriori sviluppi. Ecco, a proposito di convergenza, c'è un altro settore, anche in questo caso un po' trasversale, che è il private banking, che sta guardando all'arte e viceversa. Che cosa ci dite? All'arte è la moda, evidentemente. Sì, rispondo sempre io a questa. Diciamo che questo valore simbolico, se pensiamo anche a prodotti come gli orologi o certe borse, ha scatenato un mercato secondario, così come per l'arte c'è un mercato primario e un mercato secondario. Quindi questi prodotti sono diventati dei veri e propri asset class, quindi da qui la vicinanza anche con il private banking, un modo per investire denaro in un momento dove magari la turbolenza fa sì che altri investimenti finanziari non sono così, non dico certi, ma c'è una certa volatilità. Il private banking impara dal lusso come trattare i clienti affluent. I brand del lusso imparano dal private banking questo concetto di durabilità, di valore e di asset class. Quindi c'è sicuramente una convergenza di approcci nel come trattare i clienti, soprattutto la fascia altissima, gli ultra high net worth e gli high net worth individual. Grazie. Ecco, un altro tema che emerge è quello dell'attenzione alla sostenibilità, quindi è un qualche cosa a cui i brand ormai non continuano a guardare, non si possono esimere dal farco. Che cosa ci dite? Sì, ormai non è più una scelta. Il consumatore a tutti i livelli di generazioni, ma soprattutto la generazione Z, cioè tutti i consumatori nati dopo il 1996, che adesso iniziano ad essere una percentuale importante del mercato, perché già nel 2022 partecipano a più del 20% del mercato e che insieme alla generazione alfa saranno un terzo del mercato in spending nel 2030, hanno alzato l'attenzione su alcuni temi che per le generazioni precedenti non erano così rilevanti e hanno evoluto gli elementi di valore con cui valutano i brand anche di questo settore, ma più in generale di tutti i settori. La sostenibilità è uno di questi, sostenibilità che è un termine anche un po' abusato perché ha tantissime accezioni e ha un significato grandissimo e che ha demarcato una nuova linea di baseline al di sotto della quale i brand sono proprio fuori dal mercato. Quindi bisogna attenersi a determinate regolamentazioni per stare nel gioco. Come vincere però in epoca di sostenibilità e di attenzione a queste tematiche crescenti è anche scegliere la propria battaglia, il proprio campo dove eccellere anche sulla sostenibilità e creare un valore differenziante per il proprio consumatore. Quindi in base a quello poi insomma c'è un valore, maggiore o minore. Assolutamente. Perfetto. L'ultima cosa, tema Cina, che insomma sappiamo che è un tema caldo e spinoso per tutti i settori. Ecco, per la moda in questo momento che cosa vuol dire? È un tema caldo perché prima del Covid i cinesi come nazionalità rappresentavano un terzo del mercato del lusso, con il Covid ovviamente i loro consumi si sono spostati tutti in Cina, cosa che prima avveniva per i due terzi fuori dalla Cina, in realtà però non hanno rimpatriato il 100% dei consumi, quindi quest'anno la Cina e i cinesi rappresentano meno del 20% del mercato. Questo non vuol dire che la Cina e i cinesi non abbiano dei forti fondamentali per tornare ad essere uno dei motori della crescita una volta che le restrizioni del Covid saranno rilasciate. È ovvio che ci sono però dei rischi, ovviamente anche al di là del Covid stesso, di operatività dei brand di questo settore, di brand internazionali in Cina e con i cinesi che non possono essere sottovalutate. Quindi resta un po' questa alea di incertezza che vale una bella fetta del mercato. Quindi ultime prospettive, idee di dove stiamo andando? Sì dunque, l'incertezza sulla Cina è legata soprattutto in questo momento alle zero Covid policies che non sono ancora state allentate e che chiaramente frenano sia l'economia interna che i consumi. E questo è un question mark che credo che nessuno in questo momento abbia chiarezza sull'intendimento del governo. Al di là della Cina, i fondamentali di questo mercato nel medio periodo sono molto buoni, come diceva Federica, soprattutto il cambio generazionale ci darà un forte impulso, e sta dando un forte impulso al settore. In questo momento cinque generazioni di consumatori amano questi brand e questa è la prima volta nella storia che succede, che teenager e adulti comprano gli stessi brand, magari prodotti diversi, ma partecipano alla stessa conversazione se vogliamo. Certo che la recessione quest'anno, lo scenario di grande turbolenza, ci danno qualche question mark sull'anno prossimo, anche se quest'anno con tutti gli indicatori macroeconomici in discesa, consumer confidence, a livelli più bassi storici i consumi del lusso sono stati fortissimi, il mercato è cresciuto del 22% e ancora i consumi sono forti. Tornando al private banking c'è anche una spiegazione finanziaria, ci sono stati 3 trilioni di euro risparmiati durante il Covid a livello globale che la gente sta rispendendo o che comunque sta rimettendo nel mercato. crea un buffer, ma sicuramente questo è un settore ciclico, come molti altri, sarà probabilmente impattato nel breve da una riduzione di crescita che ci aspettiamo nel prossimo anno. Perfetto, grazie della chiarezza, quindi grazie a Claudia D'Arpizio e grazie a Federica Levato di Beina. Grazie.